Buon sabato a tutti e anche questa settimana nella bella cornice del cortile della nostra biblioteca il comune a casa tua. Questa settimana ci troviamo in una location diversa rispetto al consueto per il comune a casa tua. Questo per due motivi. Il primo è quello che questo cortile, questi spazi davanti alla biblioteca proprio la scorsa settimana, Barbara Altissimo, Gualtiero Scola e alcuni attori trinesi che si sono improvvisati, qualcuno amatorialmente già lo fa, hanno raccontato un pezzo della nostra storia all'interno del Festival delle città identitarie. Un momento molto bello, molto toccante che si è svolto domenica pomeriggio e che ha visto tantissima partecipazione da parte del pubblico trinese e che ha ridato alla vita e alla luce all'interno di questo cantiere Italia a tutta una serie di passaggi storici che hanno riguardato la nostra città. E il secondo motivo è perché questa settimana, giovedì, si è tenuto il Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale che come di consueto viene convocato verso la fine di luglio, succede a Trino come un po' in tutti i comuni, perché c'è una scadenza, quella dell'equilibrio di bilancio. È un documento, non vi annoio sullo spiegazione tecnica, ma che serve a valutare lo stato di salute dei conti dei comuni. Questo documento che è stato redato dal responsabile del settore finanziario ha avuto il parere favorevole del Revisore dei Conti e attesta un ottimo stato di salute dei conti del nostro Comune. Motivo per cui continuiamo a permetterci numerosi investimenti sulle opere pubbliche, sui lavori di manutenzione e sui lavori straordinari che, così come è capitato anche quest'anno, abbiamo dovuto affrontare come lo scoperchiamento del tetto dello scatolone al campo sportivo. Nel Consiglio Comunale, insieme a una serie di piccole e più piccole variazioni che hanno riguardato degli aggiustamenti di bilancio, la quota di cofinanziamento del Comune proprio del Festival delle Città Identitarie e un contributo che è arrivato dal Ministero per il trasporto delle persone disabili, ha visto due importanti variazioni di bilancio. La prima, grazie a un accordo che abbiamo stipulato con l'ASL, Servizio Socioassistenziale di Casale Monferrato, il Comune di Trino riceverà per conto dell'ASL 200.000 euro di fondi PNRR, quindi comunque che derivano da queste risorse stanziate straordinariamente dalla Comunità Europea per l'Italia e che verranno destinate alla riqualificazione dell'immobile di via Gioberti per la condestinazione, un gruppo alloggi e appartamento. E un'altra importante variazione di bilancio che riguarda appunto lo stanziamento della quota di cofinanziamento, 54.000 euro quindi di risorse del Comune che serviranno a cofinanziare, 500.000 euro invece che abbiamo ottenuto di contributo dalla Regione Piemonte per la completa riqualificazione di un palazzo storico della nostra città, Palazzo Biandrai in via Duca d'Aosta davanti alla Fusa che ha già visto una buona parte di riqualificazione e che vedrà adesso anche la riqualificazione di questo e l'efficientamento di questo bellissimo palazzo storico. Quindi un consiglio comunale in pieno luglio ma molto importante che vede due importanti interventi sui quali lavoravamo già da qualche anno perché erano ovviamente le candidature a questi bandi si fanno quasi spesso un anno per l'altro e quindi ci stiamo lavorando. Abbiamo ancora delle altre cose in cantiere, le scoprirete quasi sicuramente dopo l'estate e il centro storico e alcune zone della periferia verranno appunto coinvolte da altri interventi e poi lavoreremo e stiamo anzi lavorando con l'assessore Alvino e siamo oramai in fase di chiusura sul programma di San Bartolomeo. Alcuni ospiti li avete già conosciuti quindi l'ultimo weekend di agosto non prendete assolutamente impegni, si inizierà già da giovedì quest'anno quindi inizieremo un giorno prima, saranno sei giorni di festeggiamenti e tra poco scoprirete sui nostri canali social e sulle pagine istituzionali del comune che vi invito continuamente a seguire tutto il programma dettagliato, ricchissimo grazie alla collaborazione con le associazioni Proloque OCT in primis, l'Antarino della Natè, la banda e tantissimi altri troverete a breve il programma a disposizione. Quindi ne approfitto per salutarvi, l'ultimo weekend di luglio, poi andremo nel mese di agosto, per tanti sono già state fatte le ferie, per tanti altri ancora devono essere fatte, quindi una buona estate a tutti quanti e ci rivediamo la prossima settimana.